Guardate, qua, quello è l'armadio della sagrestia di Don Alvaro. Quindi noi potremo sviluppare un rapporto tra questi sotterranei e la Pieve. Una suggestione davvero impezzata. Un vero e proprio tesoro è quello che è emerso dai sotterranei del Palazzo di Fraternita ad Arezzo, un luogo suggestivo e affascinante in comunicazione con la chiesa della Pieve. Ora c'è un progetto di utilizzo elaborato dall'ingegner Luigi Luccherini, ex sindaco di Arezzo, e il restago di un affresco di fine Cinquecento rinvenuto nei sotterranei. Ci sono tracce chiaramente alto-medievali, frammiste ad altre compromissioni successive. È veramente incredibile vedere come la storia ha costruito pezzi di città su pezzi di città. Le stanze sono collegate l'una all'altra su livelli diversi. Tra l'altro si intuisce che c'è una zona in cui c'era un ulteriore livello che oggi non c'è più perché c'è un camino per aria che non avrebbe motivo di essere. Quindi è una cosa assolutamente affascinante che il magistrato di Fraternita ha deciso di recuperare dando loro una funzione sostanzialmente di tipo museale. Quindi il palazzo di Fraternita diventa sempre più il centro culturale di Arezzo. Su indicazione del sindaco Chinelli, noi magistrato abbiamo iniziato questo progetto di recupero e anche di ipotesi di utilizzo. È un'ipotesi che noi rivolgiamo verso il museo perché la città di Arezzo ha bisogno di ricoperare la sua memoria per creare la sua identità e la Fraternita costituisce, come diceva giustamente prima il sindaco, il luogo dove la storia di Arezzo è passata. Ma quello che emerge ancora con maggiore suggestione è quella presenza di un affresco che è della metà del Cinquecento che stiamo recuperando con i ragazzi dell'Itis e poi questo particolare rapporto che c'è tra questi sotterranei e la Pieve. I problemi da risolvere sono tanti, però noi abbiamo già qui un documento che dimostra come questi locali possono essere recuperati eliminando barriere architettoniche, limitando la quantità di accesso per non superare il numero di quelli permessi dalle vie di fuga, il ricollegamento che noi pensiamo che esista, non può non esistere, con i locali che sono al di sotto della balconata di Piazza Vasari che dovrebbero essere la stessa quota degli ultimi locali qui che noi troviamo scendendo verso il basso, in modo tale che tutti questi locali si ricollegherebbero alla Piazza Vasari oltre che a Corso Italia ed evidentemente darebbero una possibilità di osmosi. C'è un problema che andrebbe approfondito se sia possibile recuperare una scala che collegava questi locali ai locali sovrastanti. Il Palazzo di Fraternita, la Pieve, l'Archivio di Stato, la Casa Museo di Manguschi, il Palazzo Lambardi con quello che ci ha trovato Beppe nei sotterranei, cioè siamo in un punto in cui la città offre il meglio di sé. Sì, vedete, io credo che bisogna alzare l'orizzonte con dignità ma con tanto orgoglio, con tanto orgoglio, noi aretini ci salviamo da soli e abbiamo capacità, uomini e l'orgoglio necessario e questo può essere un esempio di quello che potremo fare. Chiunque sarà a governare questo comune avrà un problema qui. Il progetto è già pronto.